Bentornati su MrGadget.tech, oggi per vedere più da vicino Huawei FreeBuds Pro 3. Prima di cominciare alcune raccomandazioni, la prima è quella di iscriversi al nostro canale, di attivare la campanella e perché no di mettere un mi piace. Ma perché vi parliamo di Huawei FreeBuds Pro 3 a distanza di quasi sei mesi dalla loro presentazione? Perché questi auricolari bluetooth sono probabilmente tra i migliori che abbiamo provato nel 2023. Adesso vi spieghiamo cosa ci è piaciuto e come ci siamo trovati. La prima cosa che guardo in un dispositivo è il design, perché per me gli auricolari devono essere belli da indossare, oltre che performanti, come sono le Huawei FreeBuds Pro 3. Cosa non scontata, sono un modello in-ear con gommini, che devo dire non è la mia forma preferita, ma l'asta allunga un po' la forma e gli dà stabilità. Sono comodi da indossare anche per un tempo prolungato. Sono disponibili in tre colori, bianco, verde e argento. A proposito di design, va sottolineato un dettaglio che li rende un po' diversi dai modelli precedenti. Il case è stato tagliato più diagonalmente, il che rende più semplice prendere le cuffiette, anche con le unghie un po' più lunghe. Dal punto di vista tecnico, non è cambiato tantissimo rispetto al modello precedente, ma quelle piccole modifiche sono veramente importanti. Il cuore tecnologico è dato da un driver che viene chiamato dual drive da 11 mm. Questo vuol dire che le frequenze, anche le più basse, vengono riprodotte veramente con una qualità elevata. E poi, pur essendo un prodotto wireless, c'è la piena compatibilità con l'iResolution Audio, sia il formato standard internazionale che quello di Huawei. Ma quando si parla di tecnologia, bisogna parlare anche di qualità in conversazione. Questi auricolari sono dotati di ben quattro microfoni, con un algoritmo davvero efficiente, che garantisce l'eliminazione dei rumori circostanti, e quindi anche quando fate una telefonata in mezzo alla gente, oppure magari su un treno, in un ambiente affollato, la vostra voce sarà totalmente isolata dal resto del contesto. E i vostri interlocutori sentiranno solo quello che voi avete da dire. Eh sì, perché certe volte ci dimentichiamo che i telefoni servono anche per chiamare. E tornando alla cancellazione del rumore, Luca, ti sei dimenticato di dire che questo modello è più efficiente del 50% rispetto ai precedenti. In termini di connettività, a queste auricolari si possono connettere due dispositivi contemporaneamente, anche iOS e Android, senza dover stare a connettere e riconnettere continuamente. A proposito di connettività, è importante sapere che se usate un iPhone non dovete rinunciare ad alcuna funzionalità dei vostri auricolari. Basta infatti scaricare Huawei AI Live sul vostro iPhone per avere tutte le funzionalità tipiche anche del mondo Android e in particolare del mondo Huawei. Se avete invece uno smartphone Android, basta andare sul sito di Huawei per scaricare la stessa applicazione AI Live. Sì, certo, come hai già sottolineato, le funzionalità poi sono ancora più complete se si usa uno smartphone, un computer o un tablet del mondo Huawei. Se stai cercando dei nuovi auricolari e sei un appassionato di musica e suono di alta qualità, dovresti proprio conoscere meglio queste Huawei FreeBuds Pro 3. Noi ci vediamo presto su mrgadget.tech. Ciao! Grazie! Grazie!